Uccisione confermata Granata lanciata Ricarico 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 mi hanno beccato lancio una granata ricarico granata lo c'è tanto un po' recupero rapido attivato ok 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 Sì, è pronto, la voce al comando. Fondermata. Un po' di salto. UAV alleato a live. Qui Longbow 3-1, bersagli acquitito. Attaffi ieri. No, no, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! No, no!